Luca da pochi giorni col Monza come mai hai scelto questa squadra? Qual è stata la prima impressione al momento della firma con il dottor Ragagliani? Come ti trovi qui nel ritiro? Ma è stato semplicissimo scegliere questa società perché sanno tutti le ambizioni che ha, l'organizzazione e soprattutto gli obiettivi che si sposano con i miei. Quindi è stato semplicissimo scegliere questa squadra, sono contento di essere qua e i primi giorni mi hanno solo dimostrato che quello che si dice di questa società è tutto vero, quindi sono sicuramente contento della scelta che ho fatto. Hai tanta esperienza Europa League Serie A, l'anno scorso però anche hai giocato in Serie B, come si va in Serie A? Quanto ti aspetti sarà difficile la prossima Serie B? Sarà difficile come tutti gli anni, ci saranno sorprese, squadre che magari in partenza non avranno tante aspettative come noi, però sicuramente per andare in Serie A ci sarà bisogno di fare un percorso lungo e continuo, quindi non fare programmi ma ragionare fino alla prima partita per vincerla e poi vincere quella dopo. C'è tanta concorrenza in questo Monza, soprattutto a centrocampo, si dice che la tua arma sia anche la duttilità, cosa pensi di portare in più a questo Monza? Sì, porto le mie caratteristiche, posso giocare sia in un centrocampo a 3 da mezzala, ho fatto anche il mediano, oppure in un centrocampo a 2, quindi mi posso adattare, adesso stiamo conoscendo l'area del mister e dobbiamo fare le nostre prima possibile perché così potremo divertirci tutti insieme. L'anno scorso in Serie B con il Pisa, diciamo che non partivi proprio per la promozione come quest'anno con il Monza, come cambia il livello di mentalità, tu che appunto la Serie A la conosci molto bene, quanta voglia hai di tornare a giocare in Serie A? Come ho detto prima, il mio obiettivo è quello e sono contento di essere venuto in una società che ha questo obiettivo e ovviamente cambia quando giochi con una squadra che parte per vincere perché hai più aspettative, però non devono essere un peso ma devono essere uno stimolo perché è quello che vogliamo fare noi quest'anno, appunto salire, dobbiamo fare di tutto ogni giorno in allenamento cercando di avere questo obiettivo in testa per realizzare questo grande obiettivo.